Siamo a cortino incontra per parlare di quel fenomeno di Obama, ma è un fenomeno o un vero cambiamento? È un vero cambiamento, non è solo un fenomeno. Direi Barack Obama ha dato corpo a speranze che sembravano non esistere più fra molti americani, fra molti europei. C'è la possibilità che l'America tornasse a dare qualcosa di straordinario sul piano dei valori e della sperimentazione. Non solo perché è nero, ma per le cose che sta facendo. Per lei che l'ha vissuto da vicino, l'emozione di quel momento, della vittoria? Direi straordinario perché è comunque un fatto storico e nel momento in cui, soprattutto nel nostro mestiere dei giornalisti, ci si trova a vivere un fatto storico, l'emozione è sempre grande come lo è stata essere al parco di Chicago, proprio quella notte della vittoria. Di fronte ai problemi reali l'entusiasmo è diminuito oppure lo amano ancora così tanto? La maggioranza dell'opinione pubblica è ancora con lui. Certo, quando poi i nodi vengono al pettine, come stanno venendo, quando le riforme vanno a toccare interessi molto particolari, beh, direi la luna di miele comincia a finire e siamo proprio in quella fase. E noi in Italia come mai lo amiamo così? Perché tutti amano Obama in Europa, in Germania, in Francia, perché rappresenta un po' il nostro sogno segreto, credo, cioè la possibilità di avere una democrazia in cui qualcuno parte dal basso, senza aiuti, da una situazione non privilegiata e arriva al vertice. Da noi è molto più difficile. In America lo era, per un periodo poi non lo è stato, con le varie dinastie che si sono succedute. Ebbene Obama ha dato una risposta che ha entusiasmato tutti, ha riportato un po' i valori americani al centro. Inutile chiederle se in Italia sarà mai possibile avere un personaggio che ci entusiasmerà così tanto. Credo che fino a quando non si cambierà radicalmente la legge elettorale sarà molto difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.